William Bradley Pitt, meglio conosciuto come Brad Pitt, è un attore statunitense, uno dei volti più noti del cinema hollywoodiano. Nasce il 18 dicembre del 1963 a Shani, Oklahoma, e trascorre l'infanzia e adolescenza a Springfield, Missouri. Ottenuto il diploma, si iscrive alla facoltà di giornalismo, ma nel 1986, a pochi esami dalla laurea, lascia gli studi per tentare la carriera cinematografica. Dopo alcune brevi apparizioni in serie televisive come Dallas e 21 Jump Street, nel 91 diviene noto al grande pubblico interpretando la parte di un autostoppista in Thelma & Louise di Ridley Scott. Tre anni più tardi, la sua partecipazione al dramma sentimentale Vento di Passioni, nel ruolo di un giovane affascinante e ribelle, lo fa diventare il sex symbol indiscusso degli anni 90. Brad Pitt dimostra di possedere anche ottime doti attoriali in Seven, thriller del 95 in cui interpreta un giovane detective che dà la caccia a un serial killer. Nello stesso anno ottiene la nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista per L'esercito delle dodici scimmie, dove veste i panni di un ecologista squilibrato. Rimane di culto la sua interpretazione in Fight Club, pellicola del 99 in cui incarna l'alter ego di un allucinato Edward Norton. Gentlemen, benvenuti al Fight Club. Il primo ruolo di Fight Club è che non parlate di Fight Club. Dopo alcuni film di minor successo, torna a far parlare di Second Rusty, il bel truffatore di Ocean's Eleven, Fate il vostro gioco. Storia di un gruppo di rapinatori che tenta il colpo grosso a Las Vegas. L'attore partecipa anche ai due capitoli successivi, Ocean's Twelve e Ocean's Thirteen. Nel 2004 cambia genere interpretando l'eroe Achille nel colo salepico Troy. Al Festival di Venezia del 2008, presenta fuori concorso la divertente commedia nera dei fratelli Cohen, Burn After Reading, a prova di spia, dove recita al fianco di George Clooney. Brad Pitt è da sempre al centro delle cronache rosa per le sue relazioni con donne belle e famose, come le attrici Juliette Lewis e Gwyneth Paltrow. Dopo la fine del suo matrimonio con Jennifer Aniston, oggi Pitt ha una solida relazione con la collega Angelina Jolie, con cui ha sei figli, di cui tre adottivi. Con la sua compagna è sostenitore di numerose cause umanitarie.